Pescavamo, pescavamo e non pescavamo più niente. Poi il pesce nel mare è diminuito, la plastica al suo interno è aumentata e la mia trattoria rischiava di chiudere. Col segno di poi, quello sarebbe stato sì, un momento perfetto per cambiare le cose. Io non rinuncerei mai al mare. Lo amo e amo tutto quello che mi regala ogni giorno. Grazie.